C'è la necessità di potenziare i controlli e l'impiego delle forze dell'ordine con l'ausilio anche dell'esercito sul territorio per garantire l'osservanza e il rispetto delle ordinanze regionali. Hanno chiesto rinforzi i sindaci dei comuni della provincia di Salerno, impossibilitati solo con la Polizia Municipale, a garantire il rispetto delle misure anti-Covid. Una richiesta di aiuto allo Stato è partita questa mattina dal Palazzo di Governo di Salerno, dove si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, preseduto dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo, alla presenza dei comandanti di tutte le forze dell'ordine. Alla luce del preoccupante aumento del numero di contagi registrato negli ultimi giorni e la presenza anche nella provincia di Salerno di zone con maggiori contagi, è stata condivisa la necessità di elevare il livello di attenzione sul territorio e in tale direzione è stato chiesto il rafforzamento dei servizi di vigilanza. Chiediamo rinforzi perché i sindaci non ce la fanno con la Polizia Municipale da soli, poi in giro c'è un clima un po' di violenza, di prepotenza, non tutti vogliono rispettare le regole, non accettano questo secondo ritorno alla restrizione, quindi chiediamo manforte, bene ha fatto il signor Prefetto, stamattina a convocare i sindaci, io in nome dei sindaci dell'Anci della Campania, ma quelli in provincia di Salerno, cerco di rappresentare anche i piccoli comuni. Il Presidente De Luca come sapete è stato a Roma, al Ministero e ha chiesto interventi seri, abbiamo bisogno anche di risorse, un po' come nella prima fase dell'emergenza, per attivare tramite le nostre polizie municipali, anche la Polizia Provinciale, cercherà di dare una mano come già fatto nei mesi scorsi, però è chiaro che c'è bisogno di risorse, se ci si chiede di controllare gli esercizi commerciali che rispettino l'ordinanza del Presidente De Luca, è chiaro che dovrà essere proseguita l'attività dei vigili urbani, della Polizia Locale, anche oltre le fatidiche 21 ora serale nella quale si completano i turni, quindi per arrivare a mezzanotte ci sarà bisogno di straordinario, ci sarà bisogno di risorse per assicurare una mappatura più efficace del territorio.